Siamo in compagnia di Tony direttamente da X Factor, allora Tony come è cambiata la tua vita dopo X Factor? È cambiata tantissimo, quindi tanta buona musica in più e comunque tanto divertimento perché comunque la musica mi diverte tantissimo, quindi scrivo, scrivo, scrivo e andiamo avanti. È uscito il tuo lavoro vero, il tuo inedito? È uscito il 22 maggio a Macalm, è uscito un lavoro di sei pezzi, un EP, sta andando anche abbastanza bene anche all'estero, Svizzera, quindi sta girando abbastanza e già siamo comunque al lavoro sul secondo disco. Ah però, e questa sera cosa presenti sul palco? Stasera presento due pezzi, uno è comunque il singolo del titolo uguale al CD che è a Macalm e poi un altro pezzo possibile, secondo singolo che è Fidati di me. Grazie mille Tony e poi vai in vacanza? Questa è la domanda del giorno, Tony fa le vacanze o lavora anche quest'inverno? Faccio le vacanze e le chiamo vacanze alternate, quindi un po' lavoro, per esempio ieri ero all'Erici un po' così da mia zia e oggi sono qua, domani è a Gallipoli, poi ritorno all'Erici, quindi è un po' così. Ti staccano vista il ragazzo, eh? Staccano vista tantissimo, ho scritto già il mondo. Un in bocca al lupo per la tua carriera. Crepi, grazie, crepi sto lupo. Crepi sto lupo.